Nulla dunque è più utile all'uomo che l'uomo stesso. Così scrive Baruch Spinoza nell'Etica, siamo nel libro quarto, proposizione 18, in un passaggio fondamentale della sua riflessione dalla quale emerge nitidamente l'intreccio virtuoso su cui è costruita l'opera, intreccio virtuoso tra la dimensione etica e quella politica, o anche tra la dimensione etica, quella politica e quella ontologica. Spinoza nel passaggio di cui ho letto poc'anzi l'Incipit sta precisando la propria visione comunitaria dell'etica e della politica, visione destinata a culminare come sappiamo nel trattato teologico-politico nella tematizzazione della democrazia come forma di governo più adeguato, visione destinata a culminare in una concezione che, trasposta su un piano ontologico, determina l'essenza dell'uomo come ente comunitario, che è parte dell'unica grande natura, che è manifestazione della natura stessa, la quale esiste come unità del molteplice, come unità infinita degli infiniti modi e degli infiniti attributi. L'uomo dunque è per sua natura comunitario e vede nell'altro non un lupo, come era nell'antropologia pessimistica di Thomas Hobbes, ma vede bensì un simile con cui potenziare le proprie capacità, con cui associarsi come se si fosse un unicamente un solo corpo, precisa Spinoza nelle righe successive del passo che ho poc'anzi letto. Occorre dunque cercare l'unione, la vita in comune, forme che potenzino l'esistenza, la pienezza di esistenza degli individui e che realizzino la loro potenzialità comunitaria in forme democratiche, che permettano al singolo di esistere senza annullarsi nella comunità e che insieme permettano di esistere alla comunità come unione dinamica dei singoli. Per questo, proprio come i modi e gli attributi esistono nella loro pluralità infinita come parti dell'unica sostanza, così in quella che potremmo chiamare l'ontologia politica di Spinoza, gli infiniti individui con le loro vite particolari, le loro esperienze, i loro gusti, le loro idee esistono come parti dell'unica sostanza comunitaria, cercando ciascuno di essi il più possibile di desiderare ciò che anche gli altri desiderano e di fare ciò che anche gli altri vogliono che si faccia in una sorta di comunità di intenti e di prospettive in forza della quale sussiste la comunità come libera unione degli individui egualmente liberi. Questa è la magnifica prospettiva che Spinoza ci lascia in eredità già a partire dall'etica e che poi culmina, come già dicevo, nella tematizzazione della democrazia. Spinoza è il grande teorico della democrazia come forma che garantisca all'individuo la libertas filosofandi, ma soprattutto che garantisca a tutti un'eguale capacità di decidere all'interno della società. Grazie a tutti! Grazie a tutti!